Allora Manuel Ploner ciao, bentornato alla LOC, un giorno di allenamento qui oggi, una giornata intensa anche di test materiali con i tuoi sci, raccontaci un po' com'è? Oggi qua è davvero una bella giornata, la neve è come sempre stupenda, è dura, bella ghiacciata e per testare gli sci oggi questo era sicuramente il miglior posto possibile, abbiamo fatto 12 giri e la pista era sempre uguale quindi sotto quell'aspetto là è perfetto per fare un paio di sci e niente sono molto contento. Ok senti tu sei rincuorato dai recenti risultati nelle ultime gare che hai fatto e cosa vai a fare adesso? Sì dopo gli infortuni ho riniziato con le gare passo per passo ho iniziato ad andare sempre meglio e adesso mi fermerò ancora sullo slalom, farò un po' di fiss in giro cercando di abbassare i punti e poi vedremo. Ok allora in bocca al lupo e noi ti aspettiamo qui perché tanto la LOC c'è fino a fine stagione ciao alle nasi in bocca al lupo